Rossana è il titolo del nuovo lavoro di Francesco Perissi X. È il nome di una persona cara scomparsa, che racchiude un immaginario simbolico della sfera dell'affettività, spesso segnata dal dolore della separazione, dal brivido dell'incontro, dall'impulso distruttivo e quello costruttivo, dalla paura e dalle fragilità. La descrizione di questi processi avviene attraverso cinque fasi che descrivono il superamento di un evento traumatico. Negazione, rabbia, patteggiamento, depressione, accettazione. All'interno di questo percorso due brani interpretano ogni fase, nell'idea di una dimensione catartica della musica, per curare se stessi attraverso l'arte. Grazie a tutti!